E' stato organizzato dal Comune di Anoia in collaborazione con l'Associazione Carabinieri la giornata della legalità e del senso del dovere nel ricordo del colonnello dei carabinieri Cosimo Giuseppe Fazio, medaglia d'argento al valore dell'arma dei carabinieri e vittima del dovere. I saluti a cura del sindaco di Anoia Alessandro De Marzo sono stati quelli del professor Dario Intorre, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Anoia e poi di Don Giuseppe Calimera, parroco delle parrocchie di San Nicola, Vescovo e di San Sebastiano Martire. E' un'iniziativa per ricordare la figura di un colonnello dei carabinieri morto durante l'attività di servizio a favore del prossimo, proprio a Reggio Calabria, durante l'accoglienza dei migranti. E' sicuramente un onore per noi ricevere il figlio del colonnello Fazio che è stato comandante della Compagnia dei Carabinieri di Tarrenova e quindi anche di questo territorio che io ricordo con grande stima e rispetto. L'iniziativa è naturalmente per parlare di legalità, per parlare ai nostri ragazzi delle scuole, coinvolgerli sempre di più al rispetto delle regole e soprattutto ad essere autonomi perché ognuno di noi deve pensare e agire in maniera autonoma, secondo i propri principi, senza condizionamento alcuno. Da parte non bisogna accettare mai condizionamenti né della criminalità né di altro genere da dove arrivano. Bisogna essere educati per quanto riguarda il vivere civile e il rispetto sempre degli altri. Sono intervenuti Maria Teresa Vaccari, specialista in criminologia giuridico forense, il dottor Antonio Alia, luogotenente cariche speciali della Guardia di Finanza in Quei Scienza e il cavalier Gaetano Vaccari, luogotenente con carico speciale dell'arma dei Carabinieri. Lo vogliamo ricordare parlando ai ragazzi di legalità e appunto ricordare l'attività che ha posto in essere il colonnello Fazio con il grado di capitano proprio in questa giurisdizione. Lui ha comandato la compagnia di Tauro e Nova dall'82 all'88 e è stato sempre presente, specie in questa giurisdizione che è stato teatro di delitti orribili. Considerate che all'epoca c'erano delle faie di incorso nelle vicine città di Città Nova e sono state anche sequestrate delle persone liberate in questi costoni, anzi ospedate, ora che vedo proprio qui, una volta era la sede della squadriglia Carabinieri di Anoia e fummo qua quando allora liberarono proprio un sequestrato della Logride e era stato accolto in questa, che all'epoca era caserma. Oggi grazie al sindaco possiamo appunto ricordare ancora una volta ai ragazzi questa figura bellissima del colonnello Fazio e dire loro, appunto come il sindaco ci ha tenuto a sottolineare ai ragazzi, che la legalità, il rispetto delle regole è una cosa importante. Bisogna partire da piccole, dalla scuola, iniziare a capire che le regole sono l'ABC del vivere civile. E poi Antonino Carlo Fazio, che è figlio del colonnello Cosimo Fazio e presidente dell'associazione Cosimo Giuseppe Fazio, educazione alla legalità e senso del dovere. Mi trovo qui a Anoia con la mia associazione che ho fondato proprio in memoria di mio padre per continuare a dare continuità a quelli che erano i suoi ideali, farli camminare sulle mie gambe, come diceva appunto Falcone, che le idee, gli uomini passano, le idee restano e camminano sulle gambe di altri uomini. Riprendono quindi i lavori della mia associazione, l'incontro con i giovani attraverso personaggi di spicco che hanno combattuto le mafie, le organizzazioni criminali in Calabria e non solo. E questo nuovo appuntamento ci vede protagonisti al comune qui di Anoia, dove la collaborazione e la partecipazione del sindaco e della sua giunta comunale è stata davvero incomiabile. Che ringrazio per l'ospitalità, per la disponibilità, per questa che è una giornata di festa, una giornata di legalità, soprattutto con i giovani che sono il futuro della nostra terra. Ha concluso la giornata il capitano Gaetano Borgese, che è comandante della Compagnia dei Carabinieri di Taurianova. L'incontro che si è tenuto alla presenza degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Anoia è stato moderato da Maria Antonella Sorrenti, assessora all'istruzione e ai servizi sociali alla legalità del comune.